Uno sguardo intenso o smarrito, non più solo l'espressione di un'emozione, ma anche uno strumento tecnologico. Un gruppo di ricercatori del Politecnico di Ebron in Palestina ha inventato un mouse per il computer controllato dagli occhi. I sensori posizionati sul volto dell'utente percepiscono i movimenti dei muscoli dell'occhio, che fanno muovere il cursore. La speranza degli ideatori è che iMouse, questo il nome scelto per il gadget tecnologico, aiuti i disabili a usare il computer e faciliti la loro vita di tutti i giorni. Lavoriamo un sistema che permetta alle persone con disabilità totali di controllare i loro letti, ma anche le sedie a rotelle con gli occhi, soprattutto all'interno della comunità palestinese, spiega Said Mahmoud Ararjabi. Il prossimo passo è lo sbarco dell'invenzione alle fiere internazionali del settore.